Si chiama Connie Titchen, ha 106 anni di età, 107 da compiere in questo anno, il 2020, ed è davvero una donna immortale in piena regola. Perché? Perché è riuscita a sopravvivere già alla epidemia di influenza spagnola che provocò la morte il secolo scorso di milioni di persone ed ha anche però avvento contro il coronavirus, ok? Infatti è la paziente guarita da Covid più longeva di tutto il Regno Unito. È nata nel lontano 1913, prima ancora dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, era stata ricoverata per 21 giorni all'ospedale di Birmingham. Dopo aver superato la fase critica della malattia, rispetto alla quale gli anziani sono molto vulnerabili, si è ripresa del tutto e è stata dimessa da medici che sono rimasti piuttosto contenti e soddisfatti per la straordinaria resistenza che la donna ha mostrato. I segreti della donna di lunga vita sono attività fisica come il bar, la bicicletta, il golf. Da sempre cucina il cibo da lei, però non disdegna anche di farsi accompagnare al McDonald's. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio per la visione di questo video di oggi. Un saluto caro Dariando, un narratore italiano, al prossimo video.